L'introduzione dell'euro generò entusiasmo e speranze. A distanza di dieci anni il bilancio è molto più problematico. L'introduzione dell'euro ha avuto luogo in concomitanza con dei cambiamenti fondamentali a livello geopolitico ed economico internazionale. C'è stata un'apertura dei mercati straordinaria con la fine della guerra fredda, un cambiamento tecnologico epocale non solo per le nuove tecnologie di informazione e comunicazione che ha riguardato anche la finanza e i prodotti della finanza e un cambiamento demografico che è continuato impetuoso portando a un invecchiamento della popolazione notevole. In tutto questo cosa ha fatto l'euro? L'euro sicuramente ha garantito la stabilità dei prezzi, ha protetto contro variazioni impreviste e forti del potere d'acquisto per quel che riguarda i salari e remunerazioni della gente. Nello stesso tempo tuttavia è rimasta una moneta senza Stato, come diceva Tommaso Podoschioppa 25 anni fa, e questo ha accentuato pericoli, pericoli sia dal punto di vista politico, sia per quel che riguarda l'adozione di interventi di macroeconomia generali nell'interesse intera area. L'unico modo di ovviare a questi pericoli è di proseguire nel percorso unitario. E una delle manifestazioni dei pericoli è effettivamente la crisi che è ancora in corso. È una crisi cosiddetta dei debiti sovrani, parte dalla crisi finanziaria originata negli Stati Uniti nel 2007, ma diventa grave nel 2010-2011 in Europa, in quei paesi che hanno difficoltà di bilancio pubblico, difficoltà di sistemi bancari rilevanti, la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, che sono poi soggetti a misure di intervento di aiuto internazionale a livello comunitario e di fondo monetario. Nell'estate del 2011, in assenza di miglioramenti nella governance economica europea, nell'assetto complessivo di unificazione delle politiche economiche europee, e con una difficoltà di crescita forte di alcuni paesi, infine con l'introduzione di misure di ristrutturazione del debito pubblico greco a carico di tutti i privati, la crisi ha toccato anche il nostro paese, la Spagna. Questa crisi si è manifestata in quello che va correntemente sotto il titolo della crisi dello spread. Il differenziale di interesse tra titoli italiani e titoli dischi è cresciuto da 200 punti base, da 2 punti percentuali, fino a 5-6 punti percentuali. Questo riflette in realtà due elementi. Il primo elemento è quello che adesso possiamo definire come un elemento nazionale, la sostenibilità dell'economia nazionale, del debito pubblico, il che dipende da due cose, da politiche prudenti sul fronte della finanza pubblica e da politiche coraggiose e ristrutturali per far crescere di più il paese. Dall'altro c'è una componente europea. Questa componente europea è una componente che riguarda il rischio che la moneta unica si risolva, che si ritorni alle monete nazionali, quello che adesso si chiama il rischio di ridinominazione. Ora, di fronte a questi due rischi sono state due azioni di politica economica. La prima è un'azione comunitaria, più governance, un'attenzione maggiore, comune alla sorveglianza agli andamenti economici nei diversi paesi. Dall'altro una risposta nazionale, migliori riforme strutturali, se vogliamo, dove era possibile, anche politicamente, è un'attenzione maggiore alla sostenibilità del debito pubblico e quindi al riequilibrio nei bilanci. Nel frattempo i mercati sono rimasti tesi e per garantire che ci fosse tempo sufficiente e che queste misure divienessero credibili e fossero attuate, la Banca Centrale Europea è intervenuta. È intervenuta in due direzioni. La prima dando liquidità alle banche, la seconda intervenendo con un annuncio di una misura di acquisto di titoli pubblici sul mercato laddove fosse necessario ovviare a quell'elemento di rischio legato alla moneta unica. L'effetto sulle banche dell'economia in crisi è notevole. Le banche italiane hanno resistito, sono tra le poche che non hanno avuto grandi aiuti di Stato, però risentono delle difficoltà dell'economia reale. Devono aggiustarsi, lo hanno fatto con più capitale, con una vigilanza molto attenta e con l'utilizzo di disponibilità finanziarie anche nelle loro disponibilità, disponibilità di profitti. Lo hanno fatto però ancora in maniera insufficiente per contrastare i rischi che abbiamo davanti. Su questo si inserisce il progetto di Unione Bancaria Europea. La risposta vera è più Unione e lì stiamo tutti lavorando a che ci sia un sistema in grado di rispondere efficacemente. Siamo sicuri che questo avvenga. Ciò che è stato fatto finora è, al di là della vigilanza invasiva della Banca d'Italia, sicuramente importante. Bisogna proseguire lungo la linea di ridurre i costi, di cambiare la struttura produttiva con più tecnologia, con una migliore organizzazione e chiaramente mantenendo un sistema di regole che sia il più possibile comuni, che è l'unica risposta in realtà a garantire crescita, benessere e occupazione in un'economia di mercato essenziale per questa che richiede regole comuni e direi anche rigorose. Quindi, governatore Visco, dall'euro non si esce? Dall'euro non si esce. Dall'euro non si esce.